Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Ernesto Russo sorprende tutti, circolano voci di un matrimonio segreto Ernesto Russo, fresco di esperienza nel mondo televisivo dopo aver lasciato il programma Uomini e Donne, sta attirando molta attenzione sui social media Inizialmente introdotto come corteggiatore di Ida Platano, è stato allontanato dallo show poco prima della fine delle registrazioni a causa di alcune segnalazioni che hanno violato le regole del programma, come riferito da Maria De Filippi Durante una puntata, è stata mostrata un'immagine di Russo con una donna fuori dagli studi del dating show di Canale 5, evento che ha accelerato la sua uscita anticipata Tuttavia, nelle interviste successive, Russo ha negato qualsiasi coinvolgimento, attribuendo la diffusione della foto a Barbara De Santi Non sono pentito di niente di quello che ho detto e non devo chiedere scusa a nessuno Mi sono sempre comportato in modo sincero e onesto. Il giorno prima ha detto che aveva delle foto di me con una ragazza Matrimonio a sorpresa per Ernesto Russo, la verità appunto successivamente, Ernesto Russo ha continuato a mantenere un profilo attivo sui social media, soprattutto su Instagram, dove ha destato grande curiosità dopo la diffusione di una presunta foto del suo matrimonio Questa voce ha alimentato numerose voci, inclusa la speculazione che aveva organizzato personalmente ogni dettaglio della cerimonia Tuttavia, la realtà è molto diversa da quanto ipotizzato. Ernesto ha chiarito tramite le sue storie che la foto in questione era stata scattata durante la festa patronale di Sant'Antonio da Padova a Sabaudia, dove aveva semplicemente indossato un abito da sposo per l'occasione Non c'era alcun matrimonio effettivo e neanche una donna speciale nella sua vita al momento Rispondendo alle domande sulla sua esperienza a uomini e donne, Ernesto Russo ha dichiarato di non provare pentimento per nulla di quanto detto e fatto nel programma, sottolineando di aver sempre agito con sincerità e onestà Ha anche affrontato le accuse mosse nei suoi confronti, mantenendo la sua versione degli eventi In conclusione, mentre la sua partecipazione al programma televisivo ha suscitato molte discussioni e speculazioni, Ernesto Russo continua a navigare il mondo dei social media, condividendo momenti della sua vita e sfatando eventuali malintesi riguardo alla sua situazione sentimentale e alla presunta cerimonia nuiziale Grazie a tutti